E' molto difficile collegare la loro coscienza con la coscienza suprema? No, affatto. Nessun uomo sano di mente direbbe, no, non è possibile. Non sta insinuando che per collegarsi con la coscienza suprema, essi dovrebbero combattere nel Vietnam o compiere atti terribili in nome di Dio. Sa che la vita spirituale dovrà essere più attraente della vita materiale, o i suoi ascoltatori non l'accetteranno. Vuole portare quel tema, il fatto di collegarsi con la coscienza suprema, a qualcosa di concreto, qualcosa di attraente e bello, qualcosa che ognuno possa fare e voglia fare. Li incoraggia dicendo che essi possono fare ciò che fanno, ma per Krishna. Arjuna era un guerriero a vita. Krishna non gli disse di abbandonare il suo compito, ma di eseguirlo per il Supremo. Così Prabhupada chiede anche a loro la medesima cosa, ed essi possono cominciare con qualcosa di semplice, come quello di offrire il loro cibo a Dio. Poiché ognuno deve mangiare e Dio vuole mangiare qualcosa, perché non offrire il proprio cibo a Dio? Dopo aver offerto, mangiate. Tuttavia potreste dire, se Dio lo mangia, che cosa mangerò io? No, Dio non lo porterà via. Ogni giorno, dopo aver cucinato i nostri pasti, li offriamo a Krishna. C'è un testimone, Mr. David ha visto. Prabhupada ride. Buoni manicaretti. Il suo modo di mangiare spirituale è tale che, anche dopo aver mangiato, tutto resta là. Perciò non dovremo soffrire la fame se colleghiamo i nostri desideri con quelli del Signore Supremo. Dobbiamo soltanto imparare l'arte, il modo di collegarci. Niente deve essere cambiato. L'uomo che combatte non si trasforma in un artista o in un musicista. Se sei un uomo che combatte, resti tale. Se sei un musicista, resterai un musicista. Se sei un medico, resterai medico. Qualunque natura tu abbia, la manterrai. Ma ti colleghi. Se il Signore è soddisfatto del mio cibo, allora per me questa è la perfezione. In ogni sfera di vita dobbiamo sapere se il Signore è soddisfatto. Dobbiamo imparare questa tecnica. Allora diventa facile come qualsiasi altra cosa. Dobbiamo cessare di fare piani indipendenti. Dobbiamo accettare i piani del Signore e portarli a termine. Questa sarà la perfezione della nostra vita. Sri Chaitanya ha reso molto facile agire a livello della coscienza. Come ci sono coloro che prendono appunti sui libri di scuola, facile metodo di studio, così Sri Chaitanya raccomandava di impegnarsi in qualsiasi occupazione, a patto di ascoltare i discorsi che si riferiscono a Krishna. Continuare l'ascolto della Bhagavad Gita e cantare Hare Krishna è per questa ragione che stiamo cercando di organizzare la nostra istituzione. Così voi siete arrivati e qualunque cosa facciate non importa. Ogni cosa gradualmente si aggiusterà. Con il semplice ascolto la vostra mente diventerà più lucida. Continuando questo metodo, cantando il Santo Nome, potrete vedere quanto il vostro cuore si purifica e quanti progressi farete sulla via della realizzazione spirituale, la vera identità della coscienza pura. Srila Prabhupada sta parlando in nome della coscienza suprema e offre le sue attività quotidiane come esempio di collegamento con il Supremo. Sto sempre lavorando a qualcosa, leggendo o scrivendo, venti ore al giorno. Quando sento di aver fame, mangio. Quando mi accorgo di aver sonno, vado a dormire. Altrimenti non sento la fatica. Potete chiedere a Mr. David se non è vero. Naturalmente la routine giornaliera dello Swami non aveva bisogno del riconoscimento di David Allen e ognuno dei suoi visitatori poteva rendersi conto che egli era trascendentale. La sua vita personale è il perfetto esempio di collegamento con la coscienza suprema. Prabhupada si manteneva sempre collegato con il Supremo. Anche Avrindavana era stato sempre collegato ed egli non aveva nessuna necessità o motivazione per andare in America e vivere nella Bauri. Era per il bene altrui che egli era arrivato alla Bauri e per il beneficio altrui stava parlando quella sera. Il suo maestro spirituale e Krishna volevano che le anime condizionate uscissero dalla loro illusione prima che fosse troppo tardi. Parlando con vigore, fino a diventare fisicamente esausto, talvolta gridando, talvolta implorando, talvolta ridendo, egli dava al suo uditorio quanto sentiva essere adeguato alla loro comprensione. Come emissario di Krishna e della successione di maestri, coraggiosamente gridava che ognuno doveva collegarsi con il Supremo. Egli poteva parlare forte come voleva finché la loro volontà di ascoltare si manteneva. Era un sadhu, in sanscrito il termine significa santo e anche colui che taglia. Ripete il medesimo messaggio che per migliaia di anni i sadhu della cultura vedico originale avevano rivelato. Egli risvegliava lo spirito eterno della saggezza vedica al fine di recidere i nodi dell'ignoranza e dell'illusione. Così ogni cosa è illusione, fin dall'inizio della nostra nascita. E quest'illusione è così forte che liberarsene è cosa ardua. Ogni cosa è illusione. La nascita è illusione. I figli sono illusione. Tutto è illusione. Noi veniamo a contatto con questa illusione e pensiamo di essere molto preparati, molto avanzati. Immaginiamo un sacco di cose. Tuttavia, quando arriva la morte, la vera realtà, dimentichiamo tutto. Dimentichiamo il nostro paese, i nostri parenti, nostra moglie, i figli, il padre, la madre. Ogni cosa è andata. Mike Grant In seguito mi recai da lui. Avevo lo stesso sentimento che provavo in altre occasioni, quando andavo ad ascoltare qualche persona famosa ai concerti. E' sempre interessante al termine del concerto andare a visitare musicisti e cantanti per conoscerli e capire la loro personalità. Provai la stessa cosa dopo aver sentito parlare Svameji. Così andai da lui e cominciai a parlare. L'esperienza però fu differente dalle altre, perché egli non aveva fretta. Lui poteva parlarmi, mentre con gli altri tutto ciò che potevi fare era esprimerti in poche parole. Essi si interessavano sempre di qualche altra cosa. Egli invece era una persona che dimostrava veramente qualche interesse per me come persona, e io rimasi così sopraffatto che mi buttai a parlare a gran velocità. Ero sorpreso. Il nostro colloquio si interruppe soltanto per il fatto che io non trovai altro da dire. Era un'esperienza diametralmente opposta a quelle fatte precedentemente in cui si avvertiva la fretta di fare altre cose. In quel momento io fui incapace di continuare. Va bene? Terminiamo qui la lettura della Srila Prabhupada, l'Ilamrita. Già è Srila Prabhupada, chi? Già. Chi ci segue in diretta può collegarsi al sito del villaggio Are Krishna e seguire la lezione di sua grazia. Grazie. 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 Grazie.